3,2,1,2, Buongiorno ragazze e benvenuti! Oggi siamo ritornate qui con Claudia Challenge Natale che oggi faremo la scuola Si, studiiamo e diventiamo artiste e bene ci facciamo questo e facciamo questa cosina che praticamente è un led che dobbiamo svetturare e una challenge chi fa meglio per chi vedrà? hashtag natale magico apriamo dai e cominciamo la challenge hashtag marghe, hashtag giulia apriamo quindi hashtag marghe sono io, hashtag giulia e lei è molto top guarda c'è pure il potente allora io ho preso il pacco raga ragazzi costa 70 centesimi, c'è pochissimo io comunque ho preso il pacco che è più facile guardate no lo dovete fare così devi fare aspettate che ora riesco eh ecco qua guardate vabbè io ho preso la stella con abbiamo i colori io li spezzo no dai troppo carino esce anche il pennellino bellissimo è come se deve vetturare vabbè però a volte non sciva no mi sciva sempre guarda un attimo aiuto guardate bellissimo il pennello questi sono questi sono quanti e ragazzi bene si è bellissimo io sto facendo aprire i colori perchè non ci riesco io li apro tutti quando perderò la calma calma sto guardando a mio padre che mi apre i colori molto fantastici c'è il nero, il bianco, il verde, il blu, il giallo e il rosso di colori tada sto cercando un serenità di pittura red yellow blue non mi viene la parola green white black black non mi veniva la parola blu è blu è blu è blu è blu è io comincio io io il re carico vabbè ecco qua allora io faccio il pacco qua mi metto i miei pennellini io faccio la stellina con il pupazzetto c'è grazie c'è lanna io sto colorando sto colorando anche io fai quando perderò la calma calma sarai vicino a me il coraggio come un'arma ma anche ho avuto dei problemi ma ce la potrei fare sorry ma non colora non è male perchè è piccolo il colore io posso colorare quanto mi pare piace si posso perchè questo è il tappo quindi ma i piedi che colore li devo fare bianchi oh i neri il pupazzetto di neve quando ti puoi animato gli puoi fare i neri sì 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 ok ragazzi ok ragazzi ho finito sto colorando anche la base guardate quanto sono profession cioè colorano anche la base ma che io la colore penso che non poterete per me penso che non poterete per me il più bello del mio te l'avevo visto carino prima sì poi è colorata il mio cavalletto è bellino blu e le colorate anche tu il cavalletto anche io qualche una no non è vero ecco il mio schifezzoso è più puzzoloso mai vista al mondo il pacco di di natale ecco qua che no no dai Giulia però sei proprio cazzimosa no dai io domani devo andare a scuola è perché io io sono coraggiosa quindi faccio le facce rosse ma quando vuoi faccio qua faccio non la mia è pronta la mia è pronta no no raga ma è più bella lei dai raga di chi è la più bella ma deve essere blu e rosso dai però guardate così non è che orrenda però guardami quando è figata ragazzi arrivato a questo punto vi posso dire solo votate se riuscite se c'è un vincitore o se non c'è un vincitore se c'è la vincitrice votate però non penso è la più bella se stanno colorati ma vabbè questa c'è hashtag facciamo solo danni ragazzi scrivete hashtag facciamo solo danni hashtag magia del natale hashtag marghe giulia kawaii hashtag marghe hashtag giulia perché tantissimi hashtag sono belli guarda stanno facciamo solo danni ho messo i colori dentro perchè non si girate chiuso ah no 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 è serio vieni qua chi è? mamma mia non può mangiare tutto no no non vedete allora quindi ragazzi questo è il video spero vi sia piaciuto o ne è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii trattino basso official su facebook marghe giulia kawaii real sul secondo canale magi tv su musica richiaccia la marghe giulia real e noi ci vediamo al prossimo video vi amiamo mua se il video è piaciuto lasciate like commentate condividete iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto shhhhhhhhhhhhhh shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Grazie a tutti